Bisogna cominciare a pensare che il digitale, le tecnologie digitali sono fondamentali per la transizione. Senza i dati e la rappresentazione digitale degli oggetti, la transizione tra prodotto e servizio non è attuabile. Il passaggio dall'economia del prodotto all'economia del servizio poi si porta a tanti vantaggi che il produttore ha una più alta responsabilità nel bene prodotto perché non c'è più passaggio di proprietà del bene. Di conseguenza il bene va progettato in maniera tale che non si rompa, va progettato in maniera tale che sia facile recuperarlo o riaggiustarlo ed è anche progettato in maniera tale che alla fine vita il prodotto possa rientrare nel circuito produttivo senza creare inquinamento. E si entra automaticamente in economia circolare. Per cui la digitalizzazione spinge alla digitalizzazione, significa portare naturalmente le imprese dentro un percorso di economia circolare. Poi nella prima fase la quantità di dati prodotta non è neanche molto eccessiva, per cui nella prima fase i dati si possono gestire con algoritmi tradizionali perché è già molto importante visualizzare i propri oggetti e cosa fanno gli oggetti. In una seconda fase in cui l'accumulo di dati comincia a farsi importante, parliamo in questo caso di Big Data, ecco che allora c'è bisogno di utilizzare altre tecniche e qui entrano tutti i temi dell'analisi di masse di dati molto ampi per poter ottenere ancora ulteriori benefici dai prodotti stessi. Grazie. Grazie.